Grazie a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità presenti e ovviamente un grazie all'amico Antonio per avermi permesso di dare questo contributo, questa testimonianza di che cos'è il Mars Center. Molti amici qui ne sono a conoscenza, altri no. La società è una società che risale agli anni 80, quindi a quasi 40 anni fa. Fu fondata da professori illustri dell'Università Federico II di Napoli, Luigi Gerardo Napolitano, Rodolfo Monti, anche se mi sono laureato a Roma però li conoscevo molto bene. Ed è una società che ha prodotto numerose sperimentazioni scientifica che ha volato a bordo dello Space Hub e anche della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi è stato un primo esempio di spin-off di un ente pubblico come l'Università che ha prodotto sperimentazione scientifica e ricerca applicata nel campo della microgravità. L'anno scorso, grazie alla visione imprenditoriale di un tessuto di piccole e medie imprese del territorio, la società è rinata e sono stato chiamato a darle un indirizzo strategico che non poteva non seguire il solco di quello che Giorgio ha chiamato prima la spesa economy. Cioè cos'è la spesa economy? È quel sistema con cui si producono innovazioni, ricerca tecnologica e innovativa nello spazio in maniera più vasta, più democratica, più diffusa per avere poi dei ritorni importanti sulla Terra. Perché dico questo? Perché è con una punta di orgoglio, quasi per coincidenza, che proprio ieri abbiamo firmato un importante accordo commerciale che vedrà quindi il primo esperimento dell'Arenata Mars Center per ritornare sulla stazione spaziale tra pochi mesi. E questo grazie a una sinergia privata, quindi non siamo ricorsi alle agenzie spaziali, però ovviamente metteremo a disposizione delle agenzie spaziali tutto quello che staremo per fare. Quindi abbiamo siglato con una società americana che ha sede in Europa, che possiede un suo laboratorio sulla stazione spaziale da più di 10 anni, a un accordo con la NASA e noi ci interfaccieremo con questa società, non parleremo con la NASA, non parleremo con la SpaceX e per il momento porteremo un esperimento di biologia ideato dal Dipartimento di Biologia dell'Università Federico II di Napoli. Però ne abbiamo anche altri in sequenza. Perché ho voluto dire questo come esempio? Per venire un po' al tema del convegno di oggi, e cioè di come sviluppo tecnologico, nuove tecnologie, nuove applicazioni possono essere anche utili per enti dello Stato come il Demanio. Perché con attività come queste, di una rete di start-up, le citava prima il generale Carta, si può veramente fare innovazione. Non perché la faccio io, ma perché giù c'è un bacino di ragazzi che vengono dall'università, che vengono dai centri di ricerca, che sono veramente, ho trovato affamati di studiare, di lavorare, di ideare, e che sono realmente la forza per poter ideare nuovi sistemi per la gestione del territorio, per la valorizzazione. Perché in fondo, quello di cui si è parlato anche oggi, e di cui parlava il Presidente Di Leonardo, è un database molto importante di dati, di elementi importanti dai grandi sistemi spaziali, che si rivolgono a un mercato di piccole e medie imprese a forte contenuto tecnologico, che vogliono sviluppare nuovi sistemi. Penso per esempio a sistemi di navigazione virtuale geolocalizzata, quindi navigabili. Cioè una serie di applicazioni che si svolgono in software terrestri, che partono però da ricerca in ambito spaziale. Quindi veramente è importante questa fusione di requisiti degli enti pubblici. la mia è una testimonianza di come anche piccole realtà private, però sono molto interessate a poter fornire il loro importante contributo. Grazie.